Buongiorno da Gabriele, oggi avrò il piacere di presentarvi uno dei modelli più iconici della gamma Mercedes-Benz. Sto parlando di classe C. Giunta la sua quinta generazione, aggiorna anche il prodotto prestazionale. AMG 43 nella declinazione berlina o station wagon. Andiamo a scoprirle. Il frontale si caratterizza per la nuova mascherina AMG a listelli verticali. E sul parafango anteriore troviamo la targhetta Turbo Electrified, che c'è al suo interno un nuovo motore 2000 di cilindrata con tecnologia 48V, capace di sprigionare 408 CV per 500 Nm di coppia. Gestiti dalla trazione integrale 4MATIC Performance e dall'asse posteriore sterzante, che ne incrementa l'agilità e il piacere di guida. Sia la variante berlina che la station wagon hanno una lunghezza di 4,79 metri, per una capacità di carico fino a 1510 litri nella variante familiare. Internamente verrete accolti da splendidi sedili performance AMG, con cuciture a contrasto in puro stile racing. E per una guida più dinamica, l'ottimo sostegno laterale vi risulterà particolarmente utile. La strumentazione specifica AMG vi consentirà di personalizzare come un vero pilota ogni singolo parametro della vostra auto. E con il Real Performance Sound vivrete appieno l'intensità del motore. Gli inserti in carbonio sono un chiaro richiamo al mondo del motorsport, dal quale ne deriva anche lo stile del volante. Appiattito nella parte inferiore è composto da ergonomici pulsanti Touch Control per la massima interazione. Vi sono piaciute? Ora non vi resta che venirci a trovare nel nostro AMG Performance Center in via Daimler 1 per vederle dal vivo. E oltre a loro abbiamo tutta la gamma Mercedes-Benz AMG in pronta consegna. A presto!